Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema animali fantastici, i segreti di Silente. Avevo già registrato questo video ieri sera, ma il file era corrotto, quindi ho dovuto registrarlo di nuovo oggi. E spero che questa volta vada tutto bene. E ragazzi, prima di cominciare vi ricordo come sempre che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete un paio di calzini omaggio, per tutto dicembre anche il 20% di cashback sotto forma di punti Pampling da spendere sull'acquisto successivo. E fino a questa sera c'è disponibile anche la maglia esclusiva di Spider-Man per festeggiare l'uscita di Spider-Man No Way Home. E ragazzi, approfitto dell'occasione per dirvi che io sono super mega fan della Marvel. Ho visto tutti i film Marvel, sono super preso bene con la Marvel, quindi ragazzi, spesso me lo chiedete anche in privato, se mi piacciono i film, sì, Marvel tutta la vita. Quindi andrò a vedere Spider-Man il prima possibile. Ma adesso mettiamo un attimo da parte Spider-Man e focalizziamoci sul trailer di Animali Fantastici, i segreti di Silente, perché questa mattina ne ho già sentite fin troppe. E adesso andremo un po' a fare il punto della situazione. Il trailer si apre con una vista bellissima di Hogwarts, della torre della Guferia e anche del campo di Quidditch. Una vista molto molto bella con lago davanti, il lago nero, davvero super suggestiva. E vediamo subito il boccino d'oro che vola attorno ad Hogwarts. Quindi nuovamente il boccino d'oro, come nel teaser di tre giorni fa. E questa cosa mi incuriosisce, perché sappiamo che Silente ha comunque un rapporto molto stretto con il boccino d'oro, perché è lì che nasconde nei film di Harry Potter, nella saga, il suo anello. Quindi secondo me questo boccino avrà una certa importanza all'interno della storia. E al momento lo stiamo tutti sottovalutando. Ma detto ciò, andiamo avanti col trailer e vediamo il vecchio Silente con il giovane Silente. Quindi questa contrapposizione un po' anche per generare quei feels per noi che abbiamo amato i film precedenti. E ci sta tutto. Spostiamoci nella scena successiva e siamo ad Hogsmeade. Anche questo un tuffo al cuore. Mi piace questo trailer perché c'è tanto Hogwarts, tanto Hogsmeade, c'è tanto Wizarding World. Questa cosa la trovo molto bella anche rispetto al film precedente. E in questi pochi fotogrammi vediamo Hogsmeade in nevata e Newt con suo fratello che si stanno inoltrando nel paese. Ed ecco che poi scopriamo essersi regati alla testa di Porco, dove incontrano Aberford Silente. Sembrerebbe essere un caso fortuito perché lo stanno cercando in realtà Albus Silente. Attore di cui non conosco il nome, ma che è somigliantissimo ad Alvaro Morte. Quindi somiglia tantissimo al professore della casa di carta. Così, piccola nota perché torneremo su questa cosa anche più avanti. Chi mi segue su Instagram già lo sa. Antonio.seria, ragazzi, mi raccomando. E poi vediamo finalmente il nuovo Grindelwald in tutto il suo splendore. Ragazzi, a me piace più di Johnny Depp. Johnny Depp era bravo, però secondo me il nuovo attore è molto molto più nel ruolo, è molto più coerente con il Grindelwald anziano che abbiamo intravisto nei film di Harry Potter. E vediamo questa scena dove estrae un ricordo con la bacchetta di Sambuco. E questo ricordo sembrerebbe essere estratto dalla mente del fratellastro di Leta Lestrange, che si chiama Yusuf Kama. Poi la scena passa a Newt, che rivediamo qui con Pichett, all'interno di quella che sembrerebbe essere una sorta di foresta amazzonica, perché vediamo appunto questa sorta di rio alle sue spalle, loro sbucano dall'acqua, vediamo le canne, vediamo questa fitta vegetazione, siamo in un orario serale e sentiamo dei versi molto forti provenire da questa foresta, che secondo me sono i versi dell'animale che vedremo nella parte successiva, l'animale volante. E poi ecco che è una cosa molto interessante, vediamo l'assistente di Newt in Germania, e lo vediamo dalle scritte che si vedono alle sue spalle nell'edificio, infatti c'è scritto Otto Edward, Otto è un nome tipicamente comunque delle zone della Germania, quindi si deduce che sia quella zona lì. Magari hanno unito più parti, io non so se manterranno i cinque film o se hanno deciso di ridurli a quattro, perché la Germania doveva essere l'ambientazione del quarto film, mentre qui vediamo, secondo me, già qualche ambientazione che ci lascia suggerite che la Germania sarà presente. Però è solo una mia opinione. Scena successiva è, vediamo, Nurmengard in tutto il suo splendore. Per chi non sapesse di cosa si tratti, è la prigione realizzata, creata da Grindelwald per nascondere, per tenere segregati i suoi oppositori, e quindi è una sorta di Azkaban. Però qui c'eravamo già stati, ve lo ricorderete, nei crimini di Grindelwald alla fine, quando Grindelwald rivela a Credence che lui è il fratello di Silente, Aurelius Silente, e sempre dentro queste mura dovrebbe esserci anche Queenie. Quindi questa location sarà, secondo me, molto importante in questa pellicola, la vedremo spesso. Questa cosa mi piace parecchio. Subito dopo vengono introdotti i nuovi personaggi principali di questa pellicola, che sono per l'appunto il fratellastro di Lethal Estrange, che come ricorderete muore nel film precedente, e poi troviamo anche una professoressa di Ilvermorny, la scuola americana di magia, e questa professoressa, me lo sono appuntato, si chiama Lally Hicks, e appunto lei andrà a rappresentare la scuola di Ilvermorny all'interno di questo team che si è formato per andare a combattere il Grindelwald. E infatti proprio del team parliamo adesso, perché ci spostiamo all'interno di questo treno, dove vediamo Jacob dietro un bancone, poi vediamo la professoressa Lally Hicks, vediamo Yusuf Kama, e poi vediamo anche Teseus e Bounty, l'assistente di Newt. Grande assente in questo trailer è Tina. Per quale motivo? Molto probabilmente non sarà presente nel film, perché quando sono iniziate le riprese del film, la prima volta, scoppiò la pandemia, e quindi dovettero bloccare tutto. Quando ripresero a filmare il film, cosa è successo? Che l'attrice che interpreta Tina ha contratto il Covid in maniera molto violenta, è rimasta per circa un mese in ospedale, ha perso più di 10 kg, e quindi probabilmente era molto debilitata e non è riuscita a filmare nulla, o magari ci sarà ma in qualche cameo, magari in una post-credit, non lo sappiamo. Altra teoria è quella che, visto che si è esposta molto contro J.K. Rowling, sia stata cacciata dal film. Io ne dubito fortemente, perché in primis lei, diciamo che lo sanno tutti, avendo letto i libri, diventerà la moglie di Newt. Quindi mi sembra un po' una fesseria farla fuori per questo, e soprattutto perché molti altri attori del cast, come ad esempio lo stesso Redman, hanno molto criticato J.K. Rowling, quindi sono tutti ancora lì e nessuno è stato licenziato. Anzi, direi che la Rowling è stata fatta fuori da molti dei progetti. Infatti, in testa al trailer, non vediamo il nome J.K. Rowling, non c'è scritto da nessuna parte, dalla creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, o comunque il suo nome a parire come nei trailer precedenti. Qui non viene detto assolutamente nulla. E poi vediamo invece Credence, col suo nuovo look, che come vi ho detto su Instagram, somiglia tantissimo a Kylo Ren. Ragazzi, molto molto simile, e non mi fa impazzire, ti dico la verità. E poi rivediamo finalmente anche Queenie, Queenie con gli stessi abiti del primo film. Se vi ricordate, alla fine del primo film, abbiamo il nostro Jacob, che è obbliviato, quindi non dovrebbe ricordare più niente del mondo magico, ma quindi entra nella sua panetteria e lui sembra un po' avere dei ricordi. E poi il film termina lì. Io credo che questo possa essere un flashback dove ci mostrano come Jacob ha recuperato la sua memoria. Perché secondo me, con questo film, che non è più sceneggiato da J.K. Rowling solamente come i primi due, visto che nel secondo ha combinato un casino, in questo film è entrato anche a gamba tesa lo sceneggiatore dei film di Harry Potter. Secondo me sta andando a colmare tutti quei buchi che sono stati lasciati nel film precedente, perché davvero è stato fatto un casino in quel film. Quindi secondo me andranno a tappare un po' di buchi. Ci spostiamo ancora e troviamo Silente col suo ciondolo illuminato di rosso. E in molti hanno notato che alle spalle di Silente sembrerebbe esserci Ariana. Perché appunto sembrerebbe la stessa fisionomia della bambina che abbiamo visto nel quadro appeso sopra il cammino della testa di porco nell'ultimo film di Harry Potter. Quindi la stessa Ariana che abbiamo visto in quel quadro, che è probabilmente uno degli ultimi che le sono stati fatti. O comunque il quadro della sua morte, un po' come succede con i quadri dei professori di Hogwarts che vengono appesi dopo la loro morte. Quindi potrebbe esserci Ariana all'interno del film in qualche flashback. E infatti vediamo appunto il ciondolo illuminato di rosso e la stessa Warner Bros sul sito Wizarding World ci dice che questa scena si riferisce al patto infrangibile che Silente ha realizzato con Grindelwald. Quindi nonostante nei film non sia mai stato detto, la stessa Warner Bros lo ha confermato nella sua analisi al trailer sul sito Wizarding World. quindi sì c'è un patto che lega i due e quindi probabilmente questo andrà a spiegare altri aspetti dei film precedenti e quindi forse andrà anche a rompere questo voto in qualche modo. Poi vediamo finalmente dei nuovi animali che ho scoperto essere dei fiamma granchio o fire crab. Questi fiamma granchio sono descritti dalla Rolling come delle tartarughe, sono dei granchi simili a tartarughe con dei diamanti e delle pietre preziose incastonate sul loro guscio e hanno anche una loro forma di difesa che è quella di sparare fiamme dalla loro coda e quindi questo è molto interessante perché si va a ricollegare a quell'animale molto grande che poi li attacca e che abbiamo visto anche nel teaser sparare proprio delle fiamme dalla coda quindi sicuramente è una sorta di parallelismo secondo me tra i ragni e Aragog vi ricordate che loro seguono i ragni nella foresta e poi si ritrovano il ragno gigante qui sarà simile seguiranno i piccoli di fiamma granchio per poi arrivare alla madre che darà del filo da torcere a Newt e a suo fratello quindi molto carina questa cosa e poi vediamo la tanto discussa scena di Jacob che brandisce una bacchetta che gli è stata consegnata sul treno e ragazzi io davvero non sopporto più le persone che fanno recensioni di cose di cui non sanno niente e vi faccio anche un nome e un cognome Victor Lazo che io seguo apprezzo stimo è molto bravo nel suo lavoro guardo spesso le sue recensioni anche se durano tantissimo ma dal punto di vista del Wizarding World non è abbastanza preparato e continua a realizzare video dove si lamenta di questo di quello di retcon e di altro ma non ha le basi per poter esprimere quelle opinioni secondo me quindi puoi criticare un film puoi criticare un lavoro sul Wizarding World se ti è piaciuto meno la fotografia la regia tutto quello che vuoi la sceneggiatura eccetera eccetera ma se andiamo a parlare di canon e di retcon eccetera allora se non sei davvero preparato lascia perdere questo è una mia opinione personale e appunto perché come hanno scritto i ragazzi di Portus sul loro sito Portki che io vi consiglio e che magari vi linko sotto in info box non è la prima volta che un babbano tocca una bacchetta alla stessa rolling è stato chiesto cosa accadrebbe se un babbano toccasse una bacchetta e le stesse ha detto che potrebbe succedere qualsiasi cosa perché la bacchetta è solo un mezzo per canalizzare la propria energia o comunque sulle bacchette possono rimanere residui di magia dei maghi e quindi potrebbe anche accadere un'esplosione ad esempio quindi potrebbe succedere di tutto ma i babbani potrebbero potenzialmente entrare in contatto con una bacchetta detto questo troviamo delle bacchette preincantate con all'interno degli incantesimi precaricati lo vediamo anche con oggetti che vengono venduti dai gemelli Weasley ad esempio come riportato nell'articolo di Portus e anche in quel caso quindi degli oggetti vengono preincantati e dati a qualcuno per difendersi che possano essere i dissennatori che possano essere i mangiamorte che possa essere Grindelwald quindi potrebbero aver dato questa finta bacchetta a Jacob solamente per proteggersi quindi una bacchetta già preincantata anche perché non la vediamo utilizzata all'interno del trailer detto questo ci si è molto lamentati anche del fatto che Jacob fosse all'interno di Hogwarts perché Hogwarts dovrebbe essere invisibile ai babbani benissimo ma sono degli incantesimi di protezione che rendono Hogwarts invisibile e indisegnabile ma nella camera dei segreti ad esempio andiamo a vedere come i genitori di Hermione vanno a diagonale con Hermione a comprare libri sempre nella camera dei segreti ci viene raccontato ad esempio che quando muore Miltilla malcontenta nel bagno delle ragazze i suoi genitori entrambi i babbani andarono ad Hogwarts per prendere il corpo della figlia quindi già dei babbani erano stati ad Hogwarts evidentemente il preside o chi si occupa della protezione del castello può fare delle eccezioni viene detto anche che non ci si può smaterializzare all'interno della camera delle necessità o all'interno di Hogwarts benissimo noi vediamo nei film di Harry Potter ma anche nei libri l'armadio svanitore che serve a creare un passaggio tra Hogwarts dentro e fuori quindi non è la prima volta lo stesso Silente nei film fugge da Hogwarts smaterializzandosi quindi ragazzi ci sono già dei precedenti è già canone il fatto che ci siano delle eccezioni all'interno delle regole di Hogwarts quindi non andate ad impazzire su questi dettagli perché comunque non credo che l'ultimo stronzo arrivi a scrivere una sceneggiatura per Harry Potter non pensando a niente la vista può sempre esserci può sempre esserci l'errore ma ragazzi non tutto viene fatto così all'acqua di rose quindi state più che tranquilli che tutto avrà una spiegazione dopo aver visto il film se non dovesse esserci la spiegazione allora potremmo parlare di retcon di canone di tutto quello che vorrete successivamente chiuso questo capitolo si passa a un'altra scena che appunto ci mostra Queenie che è passata al lato oscuro poi vediamo uno scontro tra Grindelwald e Silente Credence e Silente quindi una ci sono diverse scene d'azione e poi arriviamo alla tanto famosa scena della camera di cui si necessita anche qui un caso per la camera di cui si necessita nei libri viene chiamata anche la stanza a vari vieni ad esempio quindi cioè non vedo qual è il problema di chiamarla in un modo diverso magari successivamente verrà chiamata stanza delle necessità da qualcun altro è semplicemente una stanza che compare scompare ad Hogwarts ognuno può chiamarla come vuole quindi vi ricordo nei libri gli elfi la chiamano stanza vai e vieni ma nell'articolo di Portus quindi di Portki trovate anche un'altra spiegazione un altro aneddoto tratto dai libri con un altro nome ancora che adesso non mi ricordo e soprattutto vediamo questo oggetto che è un oggetto nuovo che potrebbe essere una passaporta io pensavo fosse quello ma effettivamente i ragazzi di Portus hanno dimostrato che la passaporta segue le persone che la utilizzano quindi si smaterializza assieme alle persone mentre questa sembra rimanere lì quindi potrebbe essere o un oggetto simile all'armadio svanitore quindi magari c'è un suo corrispettivo da un'altra parte probabilmente in questo caso in Tibet visto che sembrano essere degli oggetti legati alla cultura tibetana e quindi potrebbe essere questo quindi che ci sia un suo corrispettivo da un'altra parte o un nuovo oggetto da zero che non conosciamo quindi anche in questo caso ragazzi state calmi e vediamo queste cinque valigie poggiate sul pavimento e magari andranno a disperdersi in cinque parti diverse del mondo per depistare Grindelwald probabilmente dentro una delle valigie potrebbe esserci l'obscurus e a proposito di creature ecco che vediamo questa creatura volante che è quella che secondo me Newt va cercando in Sud America ho fatto delle ricerche ho cercato di capire cosa fosse ed è una creatura mitologica nel senso che è realmente esistente anche nel nostro mondo è il corrispettivo sudamericano del mostro di Loch Ness e si tratta dello Snelli Gester io l'ho cercato potete fare delle ricerche su Google è scritto Snelli con la Y Gaster ed è appunto questa sorta di animale prestotico una sorta di dinosauro alato con delle sembianze serpentesche con delle zanne in acciaio viene descritto così dalla Rowling e una delle sue caratteristiche è quella di avere la pelle immune agli incantesimi e soprattutto leggendo sul sito Wizarding World scopriamo anche che le corde di cuore di questo animale sono state utilizzate per realizzare le bacchette dei fondatori di Ilvermorny quindi comunque l'animale dovrebbe essere proprio questo e probabilmente stanno cercando di prendere la pelle oppure un suo uovo un cucciolo non sappiamo perché Newt sta proprio cercando questo animale o magari una zanna di questo animale non lo sappiamo e poi abbiamo la scena post credit diciamo così dove vediamo Jacob a tavola che fa colazione con delle studentesse di Hogwarts una scena secondo me simpaticissima molto carina dove lui mostra questa bacchetta in legno una bacchetta molto scadente si vede una bacchetta di bassissima qualità che mostra questa ragazzina e la conserva all'interno del suo gilet perché dice che è stato un regalo di Natale ed è molto pericolosa e anche in questo caso sempre i ragazzi di Portus mi hanno fatto riflettere perché loro mettono il punto sul fatto che potrebbe anche essere che Jacob stesse vivendo una realtà alternativa nel senso che lui non si stia rendendo conto di essere all'interno di Hogwarts che magari lui vede qualcosa di diverso e che quindi anche quella bacchetta per lui può essere qualcosa che in realtà non è quindi ragazzi anche in questo caso godetevi il momento aspettate aprile lasciate perdere tutti quelli che gridano subito allo scandalo al retcon al fuoricanone alla porcata ragazzi io in questo trailer personalmente non vedo nulla di così sbagliato la mancanza di Tina è presto spiegata come vi ho detto anche la bacchetta per me non fa nessuna differenza perché non la utilizza non abbiamo visto niente non sappiamo di cosa si tratta abbiamo visto tre secondi di questa bacchetta in mano a Jacob quindi secondo me è tutto pienamente in regola e spero che con questo film vadano un pochino a colmare tutte le cose lasciate in sospeso nel film precedente e che finalmente Wizarding World si sia rimesso in carreggiata adesso che è tornato in mano allo sceneggiatore dei film di Harry Potter perché questa è una cosa che farà assolutamente la differenza su questo film e ne sono più che sicuro non sappiamo neanche la durata ma io sono sicuro che durerà almeno due ore due ore e mezzo quindi ci sarà davvero tanta tanta roba da guardare e ragazzi credo di avervi detto proprio tutto se magari qualcosa mi è sfuggita sicuramente ve la racconterò su Instagram quindi mi raccomando seguitemi antonio.seria mi trovate sempre lì ultimamente sto prendendo calendari dell'avvento a tema Harry Potter faccio dei commenti appunto sul trailer un po' su tutto ho fatto dei post sono tornato a postare su Instagram quindi sia lodato il cielo e ragazzi a questo punto la smetto di tediarvi fatemi sapere voi sotto cosa ne pensate e niente e ragazzi non lasciatevi influenzare dai grandi influencer potteriani e pensate di più con la vostra testa e magari andate a leggere gli articoli di Portus o di altri siti del genere che sicuramente sono più preparati detto questo ragazzi vi ringrazio e ci vediamo presto ciao ciao